La procura di Modena La procura di Modena Il commissario Rem avvisa senza riforme l'Unione si sgretola e Berlusconi propone di stampare più euro. Tensione tra gli azzurri dopo le polemiche sul calcio scommesse. Il commissario tecnico Prandelli attacca. Se serve per il bene del calcio non andremo agli europei. Intanto però la squadra perde malamente l'amichevole di Zurigo contro la Russia per 3 a 0 e la terza sconfitta di seguito per la nazionale. Sono le 7 e 28 minuti. Buongiorno dalla relazione del telegiornale e benvenuti a questa prima edizione. In primo piano abbiamo le parole del capo dello Stato che in occasione del 2 giugno della festa della Repubblica ha voluto rivolgere un pensiero in particolare alle vittime e ai familiari del terremoto in Emilia e alle popolazioni costrette a lasciare le loro abitazioni a vivere nelle tendopoli. Sono tempi difficili e dolorosi ha detto Napolitano nel suo messaggio ma questa povera Italia se saprà ritrovare coesione e unità nazionale e chiudere la stagione delle contrapposizioni ideologiche uscirà dal tunnel della crisi. Allora cominciamo proprio dalle parole del capo dello Stato. Vediamo. Tra qualche ora la tradizionale sfilata delle forze armate e i fori imperiali che Napolitano ha voluto fortemente nonostante le polemiche. Una cerimonia che avrà un tono sobrio e sarà dimezzata nei mezzi e nella festosità preceduta da un minuto di silenzio. Non ci saranno le frecce tricolori e non ci saranno le parti a cavallo. Tutto ciò comunque non basta all'opinione pubblica se è vero che secondo un sondaggio SVG il 68% degli italiani sarebbe contrario alla parata. La Lega Nord e l'Italia dei Valori poi non saranno presenti in via dei fori imperiali per protesta contro la decisione di tenere comunque la cerimonia. I dirigenti dei due partiti infatti saranno nelle aree terremotate. Intanto ieri vigilia dei festeggiamenti e ricevimento nei giardini del Quirinale. Catering abolito e sostituito da prodotti della cooperativa libera di Donciotti provenienti dalle terre espropriate ai mofiosi. Sottoscrizione pro terremotati e richiesta a tutti gli invitati. Unità e solidarietà, questo ci occorre per superare tutte le emergenze e le prove, come ci dicono i nostri 150 anni di storia. Lo ha detto il Presidente della Repubblica in un videomessaggio. Una comunicazione come era prevedibile per gran parte dedicata agli effetti del terremoto in Emilia e ai tempi difficili e dolorosi, che, ha spiegato Napolitano, l'Italia saprà superare. A questo fine il Presidente ha richiamato tutti allo spirito di solidarietà e unità nazionale che ci guida e che costituisce la migliore garanzia in tempi così difficili e anche dolorosi. E poi, rivolgendosi direttamente alle popolazioni colpite dal sisma, ha assicurato che l'impegno dello Stato e la solidarietà nazionale non mancheranno per assistere chi soffre e per far ripartire la ricostruzione. E allora queste le parole del Capo dello Stato. Noi andiamo a vedere direttamente sul posto in Emilia qual è la situazione per quelle popolazioni costrette a lasciare le loro abitazioni. Ormai da giorni sono costretti a vivere nelle tendopoli allestite dalla protezione civile. La terra purtroppo continua a tremare e non si sa per quanto tempo ancora sarà così. Intanto gli imprenditori continuano a lanciare messaggi, appelli al governo, alle forze politiche perché si intervenga quanto prima per far ripartire l'economia. E poi c'è un altro problema, un problema veramente brutto, quello dello sciacallaggio. Si è costretti a sorvegliare le abitazioni abbandonate proprio perché purtroppo ci sono numerosi episodi di questo genere. Ma senza anticipare tutto andiamo subito da Marco Ferini che è collegato in diretta per noi da Mirandola. Buongiorno Marco, qual è la situazione? La terra ha tremato anche stanotte? Sì, buongiorno. Una nuova notte di scosse qui in Emilia, però questa volta di bassa intensità. Ci sono state in provincia di Modena e Mantua due scosse in particolare che hanno superato il terzo grado della scala Richter. In ogni caso niente di preoccupante, in tutto ci sono state 58 scosse di assestamento. Però diciamo che la vera notizia oggi, nel giorno della festa della Repubblica, è l'arrivo nelle zone terremotate della leader della CGL, Susanna Camusso. Sarà accompagnata dai leader della CISL e della UIL e incontreranno gli sfollati, i rappresentanti delle istituzioni e i sindacalisti locali. Insomma sarà un modo per esprimere la loro solidarietà e vicinanza, ma soprattutto poi per fare il punto su quello che bisogna realmente fare in questo momento. Vedete nelle immagini appunto le tendopoli e non si sa e non si capisce ancora per quanto tempo tutta questa gente dovrà rimanere in questi posti allestiti da protezione civile prima di poter avere legibilità per le loro case. La prima tappa appunto della Camusso è prevista nel Centro Nazionale di Coordinamento della Protezione Civile a Marzaglia, intorno a mezzogiorno. E lì proprio gli aspetta il capo, Franco Gabrielli. Poi da lì si sposteranno e andranno a Mirandola, dove appunto vicino a tutti quei capannoni industriali, crollati dopo il secondo sisma e hanno ucciso tantissimi lavoratori. Ricordiamo appunto che c'è stata un'aspra polemica tra Susanna Camusso e il neolider di Confindustria Squinzi proprio sull'opportunità di ricominciare l'attività produttiva dopo la prima scossa del 20 maggio, appunto con i capannoni in quelle condizioni. Qui vedete le immagini appunto del ritrovamento dei cadaveri degli operai nello stabilimento dell'Emotronics. Ieri il procuratore capo di Modena ha fatto sapere che presto potrebbero svolgersi le autopsie per i corpi di quei lavoratori estratti sotto le macerie ed è un tipo di accertamento legale che farebbe scattare, diciamo automaticamente, decine di avvisi di garanzia. Però più che altro come un atto dovuto, sarebbe una sorta di incidente probatorio dove parteciperebbero attraverso operiti, consulenti, tutte le parti coinvolte in questa tragedia. E quindi ci sarebbero dai proprietari delle fabbriche ai parenti delle vittime, sempre attraverso operiti e legali, alle assicurazioni, poi i progettisti e i collaudatori di quei capannoni. Ricordiamo che la procura di Modena sta procedendo per omicidio colposo e lesioni colpose per quei capannoni. Bisogna verificare innanzitutto se è stata rispettata la normativa antisismica regionale del 2003 e poi verificare, c'è la questione dell'agibilità, perché dopo la prima scossa molti imprenditori siano rivolti a professionisti privati e dunque è prevista una legge che prevede l'autocertificazione per dare l'agibilità. Ovviamente però la procura deve valutare se le perizie degli ingegneri sono state fatte in modo corretto. Ecco, vedete ancora quello che sono i capannoni, quello che è rimasto più che altro dei capannoni dopo il secondo sisma. Per ora da qua è tutto, vi restituisco la linea. Bene, grazie Marco, buon lavoro. Naturalmente chiedici pure la linea se dovessero esserci notizie importanti nel corso del telegiornale. E a proposito di sisma, a proposito di zone terremotate, vi ricordo anche oggi che possiamo aiutare queste popolazioni così duramente colpite e con l'iniziativa del nostro telegiornale insieme al Corriere della Sera è possibile donare due euro mandando un SMS con un telefono cellulare al numero che vedete in sovrimpressione, il 45500 o anche chiamando da rete fissa con qualunque operatore telefonico. E mi raccomando facciamolo perché queste popolazioni hanno davvero bisogno di non essere lasciate sole. Ed anche il Papa, il Papa che da ieri si trova a Milano nella sua prima giornata di una visita che durerà tre giorni, ha voluto ricordare le vittime del terremoto ha chiesto la solidarietà da parte degli italiani perché queste popolazioni non vengano lasciate sole. Ma c'è stata anche una cosa che ha colpito particolarmente chi osserva le vicende vaticane soprattutto negli ultimi giorni, lo sapete per le polemiche che ci sono state perché Benedetto XVI era accompagnato dal segretario di Stato Bertone. Una prassi questa che non è di norma nelle trasferte nazionali e molti hanno voluto leggere in questa presenza del Cardinal Bertone un chiaro segnale alle polemiche dei giorni scorsi. Vediamo il servizio. Milano guarda in alto, ha detto Benedetto XVI ieri nel giorno del ritorno di un pontefice nella capitale del Nord dopo 29 anni. È stato un abbraccio caloroso quello che la città gli ha dedicato in un momento difficile per il capo della Chiesa Cattolica che in piazza del Duomo davanti alla folla riunita per l'incontro mondiale delle famiglie aveva al suo fianco anche il segretario di Stato Tarcisio Bertone. Una presenza già prevista da tempo hanno sottolineato fonti della Santa Sede a smentire le interpretazioni di chi aveva collegato questa presenza ai fatti degli ultimi giorni culminati in Vaticano con l'arresto dell'aiutante di Camera. Ha parlato di radici che aprono al futuro il Papa, sempre rivolto a Milano, crocevia di culture e luogo capace di coniugare la propria identità con i contributi positivi che nel corso della storia le sono stati offerti con un accenno alle due anime, cittadine, quella laica e quella della fede chiamate a unirsi per il bene comune. Dopo le note della Nona di Beethoven, eseguita dall'orchestra e dal coro della scala diretta da Daniel Barenboim, dal podio per lui insolito di direttore d'orchestra, Benedetto XVI, ha parlato del valore della musica come veicolo di un messaggio di solidarietà e il pensiero del Papa e di tutti andato alle vittime e a coloro che in questi giorni soffrono nelle aree dell'Emilia e della Lombardia colpite dal terremoto. Oggi il programma prevede un primo incontro con religiosi alle 10 in Duomo, poi il Papa attraverserà la città in Papa Mobile fino allo Stadio Meazza dove alle 11 verrà accolto dai Cresimandi della Diocesi. In seguito Benedetto XVI tornerà in Arcivescovado e nel pomeriggio alle 17 parlerà alle autorità civili in attesa della messa campale di domani mattina nel Parco di Bresso dove è preannunciato l'arrivo di più di un milione di persone. Si è concluso rapidamente con la sua liberazione ed è incoloma in buone condizioni il sequestro di Roberto Di Girolamo, l'ingegnere italiano che lunedì scorso era stato rapito in Nigeria. Il ministro degli Esteri Terzi ha detto che questa operazione è stata possibile, questa liberazione anche grazie alla collaborazione importante delle autorità locali. Ho il cuore che mi batta l'impazzata, non riesco a dire nulla, finché non parlo con mio marito non posso crederci. Così tra le lacrime la moglie di Modesto Di Girolamo ha commentato con l'agenzia di stampa ANSA la notizia della liberazione di suo marito avvenuta poche ore fa. Di Girolamo, 70 anni, abruzzese, era stato sequestrato lunedì scorso da un commando di uomini armati mentre ispezionava un cantiere a Ilorin, capitale dello stato del Kuwara in Nigeria. La notizia del sequestro, diffusa solo giovedì scorso, era stata confermata dalla Farnesina che come da prassi aveva subito chiesto il massimo riservo. Il ministro degli Esteri Terzi ha seguito personalmente la vicenda attraverso l'unità di crisi del ministero degli Esteri. Durante tutto il sequestro sono stati frequenti i contatti con le autorità nigeriane. Priorità assoluta in queste ultime ore l'incolumità dello stagio. Terzi, anzitutto, ha espressamente chiesto al governo nigeriano di astenersi da qualsiasi intervento che potesse mettere in pericolo la vita dell'ingegnere italiano da 40 anni impegnato in lavori in Africa e ancora fresco infatti nella memoria il caso e il ricordo di Franco Lamolinara, un altro ingegnere italiano rapito l'8 marzo scorso sempre in Africa ed ucciso insieme ad uno stagio britannico durante un blitz fallimentare delle teste di cuoio inglesi. E una notizia appena battuta dalle agenzie, sono state liberate in Afghanistan due cooperanti straniere, la leggo insieme a voi questa notizia in diretta, che erano state sequestrate il 23 maggio scorso nella provincia nord-orientale afghana del Badakhshan, lo ha annunciato il portavoce del comando delle forze di sicurezza per l'Afghanistan settentrionale. Non si sa ancora la nazionalità delle due cooperanti, ma sono sicuramente occidentali, ve ne daremo conto nella telegiornale delle 13.30. E adesso parliamo di economia, perché le notizie purtroppo non sono buone, continua a crescere la disoccupazione del nostro Paese e va male però in tutto il resto dell'Europa. Cresce la preoccupazione per la situazione economica in particolare della Grecia ed ora della Spagna, una preoccupazione questa che va anche oltreoceano. Infatti il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto la crisi europea pesa su tutti quanti. Vediamo. Mai negli ultimi otto anni il tasso di disoccupazione in Italia è stato così alto, 10,2% ad aprile. Tradotto in cifre vuol dire che oltre 2 milioni e 600 mila italiani sono attualmente senza lavoro e che almeno 38 mila lo hanno perso nelle ultime quattro settimane. A soffrire è soprattutto il meridione, poi le fasce più deboli, le donne, gli stranieri e soprattutto i giovani. Tra i 15 e i 24 anni i disoccupati sono più di uno su tre. Ma la crisi attanaglia tutta Europa e coinvolge anche gli Stati Uniti. Wall Street poche ore fa ha chiuso con il Dow Jones a meno 2,22. Il Presidente Obama alle prese con i dati negativi sull'occupazione del suo Paese ha commentato allarmato la crisi europea colpisce tutta l'economia mondiale. In Europa invece questa volta la maglia nera va, lo vedete, alla borsa di Francoforte. Perde un po' meno Milano che però nel mese di maggio ha dovuto fare i conti con perdite pari al 12%, bruciando qualcosa come 4 mila miliardi di euro. Una situazione che ieri ha fatto sbottare il Commissario e gli Affari Economici e Monetari o l'Iren che da Bruxelles ha avvertito se l'Unione non si rafforza, l'euro è il rischio. E ha parlato di economia ieri anche Silvio Berlusconi, il leader del Popolo delle Libertà. Ha riunito i deputati e i senatori per mettere a punto le strategie per la nuova stagione politica anche perché sono sempre più insistenti le voci di possibili allontanamenti, divisioni all'interno del partito. Ma ieri ha lanciato anche una proposta che egli stesso, proprio Silvio Berlusconi, ha definito un'idea pazza e cioè quella di stampare moneta. Vediamo di cosa si tratta. Berlusconi ha la sua folla idea. Ieri l'ex premier si è presentato all'assemblea dei gruppi del PDL e ha lanciato la sua provocazione per superare la crisi che, secondo l'ex premier, ha fatto perdere agli italiani la fiducia in un futuro che sembra sempre più fosco. Come uscirne? Stampiamo noi gli euro, ha detto Berlusconi. Usiamo la nostra zecca, visto che la BCE non lo fa. Monti deve chiedere all'Europa di stampare moneta, altrimenti meglio per noi uscire dall'euro pur rimanendo nell'Unione. Questa dunque è la ricetta anticrisi di Berlusconi che, nel suo discorso, è tornato ad augurarsi una rivoluzione liberale, la stessa annunciata nel 1994, ai tempi della prima candidatura. Una rivoluzione di cui l'ex premier, ricorrendo ad una metafora calcistica, ha detto di non voler essere il centravanti ma l'allenatore. In poche parole non si candida alla presidenza del Consiglio né a quella della Repubblica, anche se, ha spiegato, con un sistema elettorale come quello del semipresidenzialismo alla francese, i sondaggi dicono che avremmo ancora i numeri per vincere le elezioni. Tornando alla ricetta anticrisi, l'idea di Berlusconi non sarebbe in realtà affatto folle, si tratterebbe invece di una sollecitazione diretta alla BCE e al suo governatore Mario Draghi. Stampare moneta improprio è impossibile, ma proporre di farlo può servire a scuotere il precario equilibrio europeo, finora retto dalla politica del rigore della cancelliera Merkel. Gli europei di calcio nell'ultima amichevole in vista del prestigioso appuntamento internazionale, gli azzurri di Prandelli sono stati travolti dalla Russia che ha inflitto alla Nazionale e è un secco quanto inequivocabile 3-0. Vediamo com'è andata. Ad otto giorni dal debutto europeo la Nazionale perde 3-0 a Zurigo contro la Russia, uscendo tra i fischi del pubblico. Morale sotto i tacchetti, tre gol subiti in modo goffo da una difesa pasticciona a chiudere una settimana tormentatissima. Anche ieri, prima della partita, non sono mancate le polemiche, seguite allo sfogo provocatorio di Prandelli, che in un'intervista ha dichiarato se ci dicessero che per il bene del calcio la Nazionale non deve andare all'europeo, per quanto mi riguarda non sarebbe un problema. Immediata la risposta del ministro dell'interno cancellieri che ha esortato gli azzurri a giocare e giocare bene in un impegno internazionale così importante. Un problema che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, fa sapere di non essersi posto. Ma anche questo alibi grande quanto il caos di questi giorni non servirà agli azzurri per giustificare la sonora lezione inflitta loro dalla Russia, altra partecipante al prossimo europeo. Dopo l'illusoria partenza con Mario Balotelli, unico a salvarsi nel disastro generale, l'Italia ha subito lasciato emergere le sue grandi lacune difensive, soffrendo oltremodo le puntate avversarie. E proprio quando a inizio ripresa gli azzurri sembravano più reattivi, ma anche imprecisi, la Russia ha colpito per ben tre volte su altrettanti svarioni. Dopo il vantaggio di Kershakov, sono apparsi addirittura imbarazzanti gli errori di Christian Maggio, con Shirokov che per ben due volte ha potuto colpire indisturbato. Un 3-0 pesantissimo a soli otto giorni dal debutto europeo contro i temibilissimi campioni in carica della Spagna e che dovranno servire a Cesare Prandelli per raddrizzare una situazione a dir poco scabrosa. E comunque sia in bocca al lupo agli azzurri è tutto. Il telegiornale finisce qui, sono le 7.46 minuti. La prossima edizione con tutti gli aggiornamenti e le principali notizie della giornata alle 13.30. Adesso subito dopo la pubblicità torna Mario Giuliacci con le previsioni del tempo e subito dopo c'è il dibattito di Omnibus condotto questa mattina da Alessandra Sardogna. Tutti voi una buona giornata, noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie.